Roberto Albanese, che ha 63 anni, si è di San Salvatore di Telesino, in provincia di Benevento e anche se naturalmente vivi a Roma e lavori come impiegati in un ente pubblico. Allora, che canzone hai scelto dal nostro tabellone, Roberto? Beh, una canzone romantica e anche struggente di Gino Paoli, Una lunga storia d'amore. Una lunga storia d'amore canta Roberto Albanese, in bocca al lupo. Quando ti ho visto arrivare, bella così come sei, Non mi sembrava possibile che, tra tanta gente che tu t'accorgessi di me, E' stato come volare, qui dentro camera mia. Come nel sonno, più dentro di te, io ti conosco da sempre e ti amo da mai. Fai, finta di non lasciarmi mai, anche se dovrà finire, prima o poi, Questa lunga storia d'amore, ora c'è tardi ma è presto, se tu te ne vai. Fai, fai, finta che solo per noi due passerà, il tempo umano passerà, Questa lunga storia d'amore, ora c'è tardi ma è presto, se tu te ne vai. Ero un po' tardi ma è presto, se tu te ne vai. Bravo! 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 Bravo, complimenti davvero, Veronica e Maria. Che ne pensate? Si è accadato nel personaggio, poi mi interpretato. Si è fatto un'ottima, si è stato bravo. Si è fatto finire quest'anno sognando, veramente. Esatto, però non so come si suol dire. Monica? Bellissimo, probabilmente innamorato, pensava a un amore della sua vita, del passato, del presente e del futuro, bravissimo. Ci ha messo il cuore. Connello? No, veramente sono bravi, veramente è difficile dargli un voto e sono bravi. Complimenti a chi all'icente e complimenti a voi insomma che state cantando. Federica? È stato veramente bravo, canzone molto difficile, tra l'altro l'ha fatta una tonalità un pelo più alta rispetto all'originale, bravo, perché bisogna ovviamente anche tarare, poi usare e tarare sulla propria voce, sulla propria estensione. E entrambi hanno rispettato molto la profondità del testo, quindi hanno avuto proprio un approccio molto rispettoso, bravissimo, è stato veramente molto bravo. Anche nell'interpretazione. È l'interpretazione quella che conta queste canzoni, capito? Veniamo al voto. Maria e Veronica? Nove, complimenti. Monica? Dieci, viva! Francesco? Nove. Federica? Voilà! Nove! 37, quindi... Ho vinto Roberto! Roberto, con 37 punti! Roberto, Roberto, bravissimo! Alice sarà per la prossima! E domenica prossima!